Bene, dichiaro chiusa la votazione. 90 favorevoli, 270 contrari, la Camera respinge. Votazione dell'articolo 7. Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione e dichiaro aperta la votazione. Marchi. Sarti. Patriarca. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 241 favorevoli, 226 contrari, la Camera approva. 7.01 aggiuntivo all'Asia, contrario Commissione Governo, favorevole relatori in minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 23 favorevoli, 291 contrari, la Camera respinge. 7.02 colletti. Non ci sono interventi, pareri sono contrari, Commissione Governo. Il relatore in minoranza si rimette all'aula, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Impegno. Grillo. Qualcun altro? Impegno ancora non riesce a votare. Colaninno neanche riesce a votare. Qualcun altro che non riesce a votare? Impegno ha votato. Colaninno ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. 77 favorevoli, 278 contrari, la Camera respinge.